Essere sindaco implica il coraggio di assumersi la responsabilità politica delle proprie scelte. Non cercare di agitare le acque e di strumentalizzare il nostro gruppo a questo scopo. Noi sappiamo veleggiare, anche in Burrasca. E la risposta che arriva dal gruppo consigliare di Avanti Sulmona all'out-out del sindaco Anna Maria Casini che ieri ha messo alle strette i consiglieri comunali Fabio Pingo e Katia Di Marzio. I due non hanno digerito il richiamo di responsabilità del primo cittadino convinti del fatto che il sindaco sta cercando un capro espiatorio. Troviamo palese quanto maldestro il tentativo tuo e di alcuni tuoi sodali di addossare a noi responsabilità imputabile esclusivamente alla tua sindacatura scrivono Pingo e Di Marzio al sindaco Casini e senza usare mezzi termini ritengono che quello del sindaco è un atteggiamento profondamente scorretto che rischia di confortare le accuse di fragilità politica che molti li attribuiscono. Avanti Sulmona non le manda a dire Ti abbiamo chiesto fin dalla nascita di questa esperienza di essere garante delle variegate anime che componevano questa coalizione civica. Di tutta risposta in meno di due anni hai portato alle dimissioni il tuo vice sindaco l'assessore al bilancio, l'assessore alle opere pubbliche, l'assessore alla sanità e alla scuola l'assessore all'ambiente partecipate, un consigliere e fatto passare in minoranza un altro consigliere eletto in provincia all'unanimità da questa maggioranza. Hai cercato capri e spiatori a scadenza trimestrale. Chi tradisce cosa? Si domanda avanti Sulmona che ricorda la Casini che nell'ultimo consiglio le nostre scelte hanno consentito a questa maggioranza di non andare a casa. Se avessimo seguito l'input disarticolati e sconnessi arrivati dalla tua segreteria gli atti posti al voto sarebbero stati clamorosamente bocciati e ciò avrebbe imposto le tue dimissioni. Per farla breve, Pingo e Di Marzio non ci stanno a sentir parlare di tradimento perché sono seduti sui banchi di maggioranza. Firmare i foglietti non può precludere il diritto ad esprimere la propria posizione. Quello che tu vorresti ottenere, concludono, cioè la rinuncia alle nostre prerogative di consiglieri, è non solo impossibile, ma anche il lescito e gravamente lesivo della volontà del corpo elettorale. Non esistono steccate di maggioranza o minoranza. Esiste una città e le progettualità di sviluppo devono necessariamente trovare larghe intese tra le forze politiche, consigliari, sociali e produttive. Unire e non isolarsi, questo è il nostro stile di essere consiglieri della città di Sulmona e poi la chiosa fa riflettere. Ci spiace, le pressioni a cui qualcuno ti costringe a sottoporci le rispediamo serenamente al mittente, forti della lealtà del nostro operato.